Buongiorno a tutti. Oggi ce la siamo presa veramente con calma. State arrivando? Ci siete? Io non vedo l'ora di cominciare la mia colazione. Scusate, perucco. Allora, come va la vostra domenica? Piovosa? Ieri qua c'è stato il diluvio universale, ma soprattutto, a parte il diluvio, un vento che ho paura che... Cioè, adesso uscirò a vedere se in terrazzo c'è ancora tutto e di là... Vedremo. Ciao, Nadia. Allora, cosa raccontate? Come è andata la vostra domenica? Come è andata? Come andrà? Come è andata la vostra colazione domenicale? Siete curiosi di conoscere il mio piatto di oggi? Allora, aspettate che un buon chef pulisce i bordi del piatto, quindi io non lo farò perché non sono uno chef. E su questo nessuno può avere qualsiasi tipo di dubbio. Però vi faccio vedere il mio piatto di oggi. dovrebbero essere una sorta di tagliatelle, tagliatelle di crepe, condite con un sugo che in realtà è quello che sarebbe davvero lo yogurt alla frutta, cioè yogurt bianco con la frutta tagliata e sminuzzata dentro. Infatti, non è bello a vedersi. Invece a voi vendono... Ciao, Barbara. Quei yogurt tutti vellutati, tutti triturati. Adesso vi racconto anche cos'è. Ciao, Laura. Allora, come vedete è una crepe tagliata a fettine. Cosa ho usato per fare questa crepe? Farina di mandorle, ciao. Farina di castagne, 30 grammi. 30 grammi di albume e un po' di bevanda vegetale per rendere l'impasto cremoso e cuocerlo. Ovviamente, un po' di olio per un giorno della padella. Ciao, Silvana. Per la salsa... Scusate, ho qualcuno che mi guarda così. Ma tu hai già mangiato? Cosa vuoi? Per la salsa ho usato tre fragole schiacciate e mezzo yogurt greco bianco. Semplicissimo. Potete anche riempire la crepe senza fare gli spaghetti, come ho fatto io. Ciao, Laura. Anche in questo caso, se vi spicciate a farlo, come ho fatto io, ci ho messo 20 minuti, avete la crepe calda e l'interno fresco che è piacevole. Guarda. Almeno avvicinati che ti tiro su e ti faccio vedere. Che bella la mia gattina. La mia gattina. Allora, raccontatemi un po' i vostri programmi per il merendino. Vero che piove? Va bene, Laura. Buongiorno, Federica. Buongiorno, Ilaria. Siamo arrivati ai progetti per il merendino. Ne avete? Io ne volevo avere, ma dicono che piova. Come ha fatto ieri, come ha fatto l'altro ieri e due giorni fa. Vado avanti? State diventando silenziosi, eh? Adesso dobbiamo rivitalizzare un po' queste dirette, perché mi fate parlare da sola. Ciao, Martina. Saluti, andate fortissimi. Ma quando faccio una domanda mi lasciate parlare da sola? Merendino, sono in turno e dicono piova. Nulla, casa divano. Perfetto. Tutti nella stessa barca, più o meno. C'è Valeria che mi presta perché vuole fare una gita. Io ho già deciso di stare a casa. Ma la gita o ci mettiamo le pinne, io lavoro come al solito. Vabbè, ragazzi, siamo tutte gente che lavora. Io questa settimana ho lavorato un po' meno, ma non è un caso. Ciao, Claudia. Fa simpatia, eh, comunque. Non sarà bellissimo a vedersi? Comunque, ho provato questa crepe perché, se ricordate, un paio di giorni fa, avevo fatto lo stesso composto, quindi 30 di farina e 30 di albume con latte vegetale, di avena. Ecco, la farina d'avena era una camnonata. Così ho detto proviamo a farla di altra farina. Devo dire che, secondo me, quella di farina d'avena era atomica. Veramente, veramente buona. Sicuramente buona. Ma sì, era più buona quella. Però ti dico, questa si difende, eh. Si porta a casa le sue cose. Io faccio le bave tipo il mio cane. Laura, pazienta ancora un po'. In realtà, non è che non puoi farla tu questa, eh. Ti basta sostituire la farina di castagne con una farina di mandorla o di cocco e già sei a posto. E come bevanda vegetale, metti al massimo la bevanda di cocco o di mandorla, senza zuccheri aggiunti. E al posto delle fragole e dello yogurt puoi mettere, poverina, il cacao o il cocco. Pensa come sei sfortunata. Io proverai. Alessandra, mangio una crepe di farina di castagne e albume e un po' di latte vegetale, fatta a striscioline, condita come se fosse un piatto di fettuccine, con uno yogurt bianco, con delle fragole schiacciate. Io ho fatta con farina di mandorle e pistacche e vedi che alla fine... Certo, provo grazie Chiara, prego. Qui a lato ho del sugo che era rimasto da parte e lo utilizzo. Vado sotto a mangiare così non mi vedete sbrodolarmi. Finalmente sono riuscita a beccare una tua diretta. Grazie Martina che ti sei... che sei riuscita a esserci, ma soprattutto che ti sei impegnata per farlo. Mi hai beccato Martina in una mattina che ho un sonno terribile. È sto tempo che è massac... cioè è terribile. Fa venire voglia solo di girarsi di là e dire sai che c'è colazione, pranzo, facciamo domani. Ciao. E voi lo state patendo il sonno? Io sono di solito una di quelle persone che preferisce andare a dormire alle 10 ma svegliarsi presto. Però sto facendo veramente fatica. Questo tempo ti fa dormire per forza. Vabbè dai, anche oggi la colazione ce la siamo fatta. Ci vediamo o più tardi o domani per farci una colazione di festa. Domani non dovrebbe più avere. Se il tempo permette faremo una passeggiata nel pomeriggio e poi il merendino la vedo dura. I prati saranno un disastro, hai ragione. Più avete una settimana, dove andiamo? Ciao vicina. Proposte particolari per la colazione del giorno di festa, che domani è la festa della resistenza. Confermo, tempo terribile, anche il mio corpo lo sta odiando e mi rompio di dolori. Lo so, purtroppo succede. Comunque le crepe, nonostante il tempo, non le ho ancora fatte. Stamattina pancake. E vabbè, c'è tempo per tutto. Va bene. Direi che io vi saluto e noi ci vediamo o più tardi o domani. Devo decidere. Ciao a tutti, buona giornata.